Geriba Exciting 470, bellissimo il posteriore comune tutte le Exciting 2018 di net alla tedesca posteriore notare il grande livello di finitura ma anche di presentazione di questo modello che è destinato teoricamente alla famiglia ma in realtà a una coppia con una gran bella caravan a un prezzo ragionevole ovviamente la cucina è studiata in maniera appropriata per la lunghezza che ricordiamoci che questa è entro i 5 metri e ha il letto centrale anteriore realizzato in maniera degna, degna significa che ha un materasso che come deve essere guardate anche la finestra laterale panoramica, eccellente Grazie Grazie Grazie